Dopo quattro mesi di amministrazione Masci a Pescara, alla prima uscita di un documento così importante come il documento unico di programmazione, si evidenzia tutta l'approssimazione per lo sviluppo futuro e sostenibile della città. Inizia così la conferenza stampa di Moreno di Pietrantonio, segretario cittadino del PD, pronto a lottare contro la proposta di cementificazione dell'area Excofa, che andrebbe a precludere ulteriormente lo sviluppo turistico di quell'area. Si qualifica soprattutto per un elemento, per il trasferimento dell'Università d'Annunzio da Viale Pindaro, dove è attualmente allocata ed è la sua sede ormai naturale, all'Excofa, cioè quell'area che si trova davanti al Marina di Pescara, che ha una destinazione turistico-recittiva da sempre e quindi crediamo che ci sia bisogno di uno sforzo di idee in avanti per cercare di capire come realizzare lì un qualche cosa che sia a vantaggio di Pescara e anche di tutto l'Abruzzo. Da quello che noi leggiamo su questo documento, che tra l'altro è anche in parte un copia in colla, è molto superficiale e non dà una linea di sviluppo della città. E quindi di farsi aiutare da tutta la politica, anche dall'opposizione, ma soprattutto andando fuori dal palazzo, e cioè dall'Università, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni culturali, dalle migliori energie attive e dalle migliori menti che abbiamo in città. In particolare vorrei dire anche che c'è un lavoro da fare per cercare di capire quale dovrà essere lo sviluppo della città, sia per quest'area ma anche per altre aree. In questo documento noi vediamo che non ci sono riferimenti precisi, per esempio per l'area di risulta, dove si balbetta e si rischia di perdere l'unica certezza, che sono i 12 milioni stanziati dalla regione Abruzzo, guidata da Luciano D'Alfonso. Oppure l'altra area importante, in riva al mare, all'ex Enaip, non si capisce ancora cosa vogliono fare. Quella è una cosa che non va fatta e noi faremo una petizione in città contro la cementificazione dell'ex Cofra. Ci sembra di rivivere l'impostazione della passata giunta Arboremascia, bocciata dai cittadini nel 2014, che tutti, ricordiamo, per l'enorme debito lasciato, mettendo a rischio il fallimento per il Comune, conclude Moreno di Pietrantonio.